Dopo il Comitato Balate-Pinselli, adesso anche il Comitato Centro Storico chiede spiegazioni sull'aumento delle tariffe idriche. Noi abbiamo avuto delle lamentelle da parte dei cittadini come Comitato di quartiere per quanto riguarda le nuove tariffe dell'acqua. C'è stato il potere politico dell'acqua e c'è l'atto idrico. Ora Maurelli si è dimesso, è passato al commissario della provincia regionale e noi questa sera i Comitati di quartiere si riuniranno per una volta per tutte, vogliamo sapere come viene articolata questo aumento. Dal momento che noi abbiamo fatto un referendum dove si evinge che coloro i quali non hanno la possibilità di poter pagare, poiché l'acqua è un bene comune, non c'è nessuna legge che può tagliare l'utenza dall'acqua. Quindi questa sera i Comitati di quartiere saranno riuniti massicciamente per decidere e per chiedere spiegazioni per quanto riguarda la nuova situazione dell'acqua.